La schiava bambina. Ah, la riconosci. E Bakhita, la schiava migliore che abbia mai avuto. Non mi chiamare solo quando lo dico io. Hai capito bene? Vergogna! Si muori, si muove e sono a parte della casa. Per il fatto che ti amo troppo. O paga o lascia la tascina. Questa volta muori. Non ti permetterai mai di dire quello che devo o non devo fare. Ci penso io a portarti fortuna. Vi ho portato una sorpresa. Da dove vieni? Innesio. Bakhita, Agatha e Carolina ti stanno aspettando per andare a Venezia. Ma che sei sempre con la bambina, vero? Benvenuta, Bakhita. Bakhita. Che vuol dire? Fortunata.